Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo della Naturaig Mongar, una tenda doppio telo, autoportante e adesso vediamo insieme pregi e difetti, ma prima iniziamo a montarla. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Iniziamo a parlare di questa Naturaig Mongar facendo il nostro consueto giro attorno alla tenda, quindi partiamo da questa parte, da questo lato, vi faccio vedere innanzitutto come si aggancia il tele esterno con il tele interno e la paleria, infatti qua in basso come potete vedere abbiamo questa piccola clip che è aperta, ci dà modo di poter agganciare il nostro tele esterno con la paleria e naturalmente anche il tele interno. ma oltretutto se io vado ad alzarlo vi faccio vedere che si aggancia inoltre il tele esterno con questi semplici lacci. Questi semplici lacci ne troviamo uno da una parte, uno esattamente dall'altra ma non solo, ne troviamo uno anche a metà del palo centrale e uno esattamente sulla punta del palo centrale. Perciò adesso io vi faccio vedere, andiamo a rimettere a posto la nostra parete esterna attaccando la nostra clip, tirandola così la tenda viene bella tirata e come potete vedere così resta tutto bene attaccato. Continuando qua a metà cosa troviamo? Innanzitutto troviamo questi due materiali aggiunto con questa piccola fettuccia finale dove poter andare a inserire all'interno i tiranti per poter tirare la tenda in caso di vento o semplicemente vogliamo tirarla di più. A metà invece troviamo la nostra finestra che si può aprire per andare a togliere l'umidità all'interno, la condensa. E basta questa è praticamente la parte laterale. Continuando, arrivando a parlare della prima porta che troviamo perché le porte come vedremo saranno due, qui troviamo come dicevo la prima porta che vado ad aprirvi. Questa possiamo aprirla sia da una parte che dall'altra. La cerniera è fatta veramente bene perché troviamo due strap che vanno a leggere la tensione e io posso andare ad aprire una la parte e anche naturalmente l'altra porta così da far arieggiare completamente la nostra tenda. Continuando arriviamo a parlare dell'altra parete laterale che è esattamente uguale a quella che abbiamo visto prima. Cosa che non vi ho detto prima è che sul finale qua sotto troviamo inoltre questa fettuccia da poter andare a picchettare per poter andare ad aprire e far entrare ancora più aria. Unica cosa che non bastano i picchetti per poter metterli completamente sia con le quattro picchetti laterali, i due delle porte e nel caso i quattro tiranti che abbiamo. Nel senso mancherebbero due picchetti all'appello per poter tirare anche queste. Continuando a questo punto beh poi la tenda è speculare da una parte all'altra quindi qua torniamo dalla nostra porta iniziale la porta frontale che vado ad aprirvi anch'essa perché voglio farvi vedere come si aggancia anche nella parte superiore il tele esterno con il tele interno. Ok adesso che ho aperto completamente la tenda vi faccio vedere qua nella parte superiore che questo è il palo centrale troviamo esattamente due fettucce dello stesso colore che vanno a collegarsi al palo perché quella superiore è del tele esterno quella inferiore è della paleria e del tele interno quindi abbiamo un ulteriore punto d'ancoraggio questo bello fisso che non si va a muovere. Detto ciò ora entriamo all'interno della tenda che vediamo un po' come come è fatta. Entriamo all'interno della tenda vado ad aprire innanzitutto la camera la porta che anche questo naturalmente possiamo farlo su e agganciarlo. Ora quindi possiamo entrare all'interno della tenda come potete vedere la tenda è veramente molto spaziosa se io mi ci sdraio io sono sempre alto un metro 90 qua sopra ho veramente molto spazio all'incirca ho 10 centimetri quindi andando a mettere un nostro materassino che ci solleva anche da terra non abbiamo problemi di altezza cioè persone da due metri qua ci stanno davvero tranquillamente soprattutto perché la parete è spiovente quindi non va a togliere spazio e come potete vedere c'è proprio di spazio qua dentro ce n'è ce n'è davvero tanto è una tenda molto grossa con tanto spazio all'interno. Altro aspetto che vi faccio vedere qua sopra troviamo tutta questa rete molto molto grossa dove poter andare a riporre i nostri oggetti che si può anche sganciare perché ha queste fettucce che come potete vedere si sgancio veramente molto facilmente e anche da questa parte di qua dove io adesso la mano c'è il cancetto dove andare a fissare magari una torcia inoltre per stoccare il materiale abbiamo sia da una parte che dall'altra queste due semplici sacchettine in rete dove poter mettere dentro magari il nostro telefono o i nostri oggetti personali come potete vedere la tenda all'interno è fatta praticamente solo di zanzariera cioè non abbiamo nessun tipo di tessuto è tutta completamente zanzariera questo è un bene perché avendo anche tutte queste belle porte grossi grosse è una tenda molto areggiata è una tenda che non soffre tanto di condensa anzi direi quasi per nulla considerato anche doppio telo però si sente tanto il vento cioè se noi prendiamo una notte particolarmente ventosa questa tenda ci protegge veramente poco dal vento esterno altro aspetto che voglio farvi vedere parlando di qualità di questa tenda sono l'aggiunta di materiali che hanno fatto che ha fatto natural che sui punti critici faccio vedere ad esempio qua come potete vedere in questo punto qua dove si vanno a unire le tre parti che compongono la tenda è stato aggiunto del materiale con altre cuciture per poter andare a diminuire la pressione sul punto singolo sia da una parte è stata aggiunta che anche qua sopra come potete vedere a metà della tenda perché questa è la cerniera della porta è letteralmente a metà della tenda e specularmente anche negli altri due punti comunque possiamo capire da questi piccoli particolari quanto naturalica investito su questa tenda tiriamo quindi le conclusioni per questa Naturaic Mongar allora è una tenda che sinceramente mi è piaciuta perché comunque viene venduta a un prezzo di 180 euro più o meno poi come sappiamo i prezzi possono oscillare ed è autoportante e doppio telo quindi due caratteristiche molto importanti per chi va in montagna anche a una certa quota è una tenda che mi ha soddisfatto molto anche dal punto di vista dell'impermeabilità dati alla mano a una colonna d'acqua di 4000 mm sia per il telesterno che per il catino e io sinceramente l'ho provata sotto un temporale estivo e ha retto benissimo non mi ha convinto molto da punto di vista della resistenza però al vento perché avendo solo un singolo palo per quanto riguarda la struttura centrale che non è neanche incrociato quando arriva del vento forte che va a colpire le nostre pareti laterali soprattutto le porte queste tendono a flettersi all'interno e quindi avremo la tenda che praticamente tenderà a stringersi all'interno della camera non si rompe ma la tenda si deforma molto potrebbe essere un problema se abbiamo del vento particolarmente forte intendo dire se abbiamo del vento sopra i 40 km orari questo potrebbe iniziare a essere davvero un problema ma tolto questo singolo aspetto che spero non vi capiti mai la tenda io mi sono trovato bene come vi dicevo non ha problemi di condensa è bella spaziosa davvero in due ci si sta super comodi si possono mettere all'interno anche i zaini materiali in più perché dall'interno spazio ce n'è davvero tanto richiusa pesa due chili e due e non è nemmeno tanto grossa quindi anche da trasportare anche se dividiamo naturalmente anche il peso non è così gravosa quindi che dire è una tenda che mi ha soddisfatto a chi la consiglio la consiglio a quelle persone che vanno in montagna e non solo anche a quote tra i 2000 e 2005 soprattutto in notti belle se invece dovesse arrivare un temporale qualcosa di simile tenderei ad abbassare la quota è una tenda che sinceramente a me ha soddisfatto davvero tanto anche nella qualità dei materiali è buona per il prezzo il quale viene venduto naturalmente c'è un buon rapporto qualità prezzo quindi ragazzi in conclusione come al solito io vi ringrazio per aver guardato anche questo video e mia speranza sia stato esauriente e esaustivo ci vediamo al prossimo ciao